Taglia, taglia, taglia Paola, è arrivato il primo breve o lungo? breve o lungo? breve o lungo? ecco un altro percorso lungo primo del percorso lungo lungo o corto? lunga? secondo del percorso lungo Caterina e Paola stanno buttando le tiri ecco un altro percorso prima donna percorso sette sette chilometri otto altre donne arrivano bambina forse il sesto non so ecco è arrivato e partecipato ecco ciao Davide arrivano donna donna del percorso lungo o breve percorso lungo o breve arriva, arriva diciamo lungo percorso sette ecco il gruppo è arrivata la famiglia percorso in percorso si trova mi vediamo la famiglia andate e ristori eccolo è arrivato ecco altre donne percorso otto gloria sono sotto i 14 anni complimenti bravo percorso arriva un'altra donna eccola percorso percorso ecco ecco i partecipanti sicuramente sicuramente lei può essere premia come il più giovane partecipante età ecco la signora ecco la signora che ha fatto il percorso lungo ecco la signora ecco la signora che ha fatto il percorso lungo la signora donatella donatella affaticata donatella affaticata adesso con il genere di riconforto percorso un gol della signora donatella in un'ora e undici primi ecco la signora ecco la signora ecco un altro giovane concorrente che taglia il traguardo percorso lungo percorso lungo altri due percorso lungo percorso lungo ci si può andare a distruttare è arrivato la stampa allora prestiamoci ad accogliere il momento per davantelina lascia passare la signora la ragazza numero 100 Marta ha tagliato il traguardo con il numero 100 percorso? percorso corto colpa sua ...esima edizione della camminata accompagnati anche dagli sprediti fedeli amici a quattro zampe ben arrivati percorso breve o lungo breve 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 percorso breve o lungo breve 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 Grazie a tutti.